Il blocco dei loculi, in tutto 136, spinto dalla frana, si è inclinato per circa 20 centimetri. A sostenerlo, un filare di puntelli in alluminio, a pochi metri. Analoghi danni si registrano in alcune cappelle gentilizie e all'ufficio del custode. E' quanto accaduto presso il cimitero di Frosolone. Il movimento franoso che si è rimesso in moto non è recente ed è esteso, rimarca il geologo Domenico Angelone, questa mattina sul posto. C'è la necessità comunque di una messa in sicurezza generale. Chiaramente l'evento più vistoso è questo che abbiamo qui alle mie spalle, dove c'è questa fila di loculi che si è pericolosamente inclinata, proprio per, sembrerebbe un cedimento del terreno e non tanto di tipo fondazionale. Il territorio molisano, un po' come tutta la nostra penisola, soffre di queste criticità soprattutto per le opere cimiteriali che purtroppo in epoca recente, diciamo anni 60, anni 70, forse anche prima, per la verità hanno ereditato un tessuto che viene da lontano perché chiaramente i cimiteri una volta, un tempo, si costruivano nelle zone periferiche dell'abitato e spesso si localizzavano in maniera imprudente sulle aree più svantaggiate, quindi quelle più soggette a dissesto idrogeologico. Chiaramente gli ampliamenti successivi hanno poi portato ai nostri giorni a una situazione che vediamo qui ma che possiamo ravvisare in diversi comuni delle due province di Sernia e di Campobasso. Da tempo il Comune ha chiesto aiuto, solo in arrivo 996 mila euro per i corposi interventi di ripristino, ci dice nel suo ufficio il sindaco Felice Ianniro. Quello che abbiamo potuto purtroppo accertare è il momento del nostro insediamento, due anni e mezzo fa. Avendo preso a cuore la situazione e quindi avendo riscontrato lo stato di assoluto dissesto in cui versava il cimitero, che non faceva e non fa certamente onore alla comunità, ci siamo immediatamente attivati per capire come intervenire e quindi abbiamo intercettato varie linee di finanziamento, tra cui una che ci è stata data dal Ministero degli Interni per circa un milione di euro, esattamente 996 mila euro per il recupero del dissesto e in corso la progettazione. La progettazione che dovrebbe essere depositata entro la fine del mese e quindi si spera, non avendo necessità di acquisire varieri di legge perché sono opere per le quali non sono previsti i pareri, quindi le autorizzazioni di specie, a primavera di appaltare i lavori. Abbiamo poi attivato come Comune una linea di finanziamento a mutuo per recuperare sempre la parte vecchia del cimitero e costruire nuovi loculi e quindi si spera a breve di poter mettere mano e recuperare e ridare il giusto decoro al sito.